Il signor Ispettore, come sapete, è venuto da Roma per parlarci del Manifesto della Razza, firmato dai più illuminati scienziati italiani. Egli, che noi ne siamo onorati, ci dimostrerà che la nostra razza è una razza superiore, la migliore di tutte. Seduti, bambini. Prego, Ispettore. La nostra razza, vero? È superiore. Certo. Prego. Grazie. La nostra razza è superiore. Appunto, sono venuto da Roma, testé ora per venire a dirvi a ciò che voi sappiate, bambini, che la nostra razza è superiore. Sono stato, appunto, scelto io, dagli scienziati razzisti italiani, a ciò che dimostrarvi quanto la nostra razza sia superiore. Perché, bambini, hanno scelto me? Ma dico... C'è bisogno di dirlo. Dove lo trovate uno più bello di me? Dove lo trovate uno più bello di me? Giustamente si è fatto il silenzio. Voi avete davanti un originale razza superiore, ariana purissima. Bambini, partiamo da una cosa che uno magari dice che vuoi che sia, no? L'orecchio. Guardate qua. Guardate la perfezione di questo orecchio. Padiglione auricolare sinistro con campanula pendente finale. Guardate che roba. Cartilagine mobile, pieghevole. Trovate i miei due orecchi più belli di questi. Io me ne vado, per carità. Però me ne dovete far vedere. In Francia se le sognano due orecchie così. Guardate qua. Guardate qua. Guardate qua. Guardate che gamba superiore ariana originale. Eppure un gioiello di gamba. Guardate che piegatura. Guardate che stantuffata di razza. Guardate che roba questa gamba. Questa si chiama piegatura di gamba ariana con movimento circolare del piede italico. Capiglia etrusca su stinco romano. Guardate che resistenza. Ce la invidia tutto il mondo, bambini. E voi da grandi avrete una gamba così. Ma che dico una? Due. Tutte e due le avrete. Se si rompe questa, ci abbiamo quell'altra. Si rompe questa, ci abbiamo quell'altra. Si rompono tutte e due. Vabbè, quello è il caso di sfortuna che c'è. Bambini, le razze esistono. E come? Ma andiamo avanti. Vi voglio far vedere un'altra cosa, bambini. Attenzione. Ha detto il spettone. E come? Da Roma? Da Roma? L'ombelico! Guardate! Guardate che bello l'ombelico! Che nodo! Ma non si snoda neanche i critesi. Che hanno provato gli scienziati razzisti. Niente, non si snoda. Questo è l'ombelico italiano della nostra razza. Guardate che roba! Guardate la muscolatura! Cipite, bicipite, tricipite! Guardate che bellezza! Guardate l'anca! Guardate! Guardate! Guardate che movimento! Guardate che roba! Signori, signori, io ora vi saluto, vero, perché me ne devo andare con l'appuntamento. Mi è venuto proprio in mente. Devo fare un'uscita ariana. Io vi saluto. Arrivederci l'ombelico! Principessa, ci vediamo a Venezia. Detta Spadpat... Esaimiza che cappinterà! I saw.